Per la prima volta in Sicilia sono stati ricostruiti per via endovascolare l'intera aorta toracica e le principali arterie dirette al cervello. La procedura mini-invasiva è stata eseguita al Policlinico di Palermo su un paziente di 77 anni, affetto da un voluminoso aneurisma dell'arco aortico, da Vincenzo Argano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria e da Sebastiano Castrovinci, dirigente medico dell'Unità Operativa. È la prima volta che viene effettuato l'intervento in Sicilia in questa modalità e ci ha consentito di trattare il paziente con un recupero funzionale estremamente veloce rispetto all'alternativa chirurgica. Questa tecnica che adesso noi possiamo eseguire grazie ad un aggiornamento tecnologico che ci è stato fornito dall'azienda, riusciamo ad effettuarla con tranquillità. Ci valiamo di un team multidisciplinare in cui sono convolti cardiologi, anestesisti, radiologi e tecnici di radiologia e insieme riusciamo ad effettuare queste procedure in assoluta sicurezza. Investimenti su nuove tecnologie e reclutamento continuo di risorse umane consentono al Policlinico di competere con le più prestigiose realtà nazionali nell'ambito della cardiochirurgia. Il commissario straordinario Salvatore Iacolino. La cardiochirurgia dell'azienda ospedale a Policlinico ancora una volta mostra competenze e professionalità con un intervento particolarmente complesso e delicato che dà la cifra di una progettualità importante che investe trasversalmente il Policlinico e che fa della nostra cardiochirurgia un punto di riferimento per l'intera Sicilia.